Noi di Inopera ci occupiamo di inserimento lavorativo, noi forniamo dei lavoratori detenuti a fare il pane come oggi non si fa più, a fare il pane come una volta, con pasta madre, levito madre, farina nobile e a fare un prodotto di lunga durata, di veloce digeribilità andando l'incontro a quelle che sono le problematiche oggi di intolleranza alimentare e quindi la ricerca di salubrità di nutrizione, facciamo un pane sociale e nutrizionale nello stesso momento. L'esperienza con Fondazione è stata elettrizzante, ci ha fatto capire come poter saltare più in alto, come darci degli obiettivi, ci ha posto delle domande a cui rispondere, su come noi vogliamo porsi sul mercato, su come analizzare quelli che sono i nostri potenziali clienti e su come soprattutto rispondere alle loro esigenze senza partire da quello che facciamo ma soprattutto da quello che loro cercano e di cui hanno bisogno.